Ok, ben a tutti ragazzuoli Nuovo canale YouTube Questo canale di che cosa parlerà? Parlerà di tecnologia, di tech review E parlerà anche di una cosa fighissima Dove praticamente vi porterò in giro e sarà un vlog Un vlog praticamente che inizierò da oggi E porterò avanti questa cosa qui tutti i sacrosanti giorni Quindi tutti i sacrosanti giorni ci sarà un nuovo video su di me Quindi se volete, signore e signori Iscrivetevi e mettete mi piace a questo video Cos'è meno capito se vi è piaciuto E ragazzi rimanete se siete interessati Perché il 2018 si presta un anno col botto Wow, ho fatto anche la rima